Condizioni incompatibili con il regime carcerario del 41 bis, dichiarazioni che fanno pensare che i legali del boss Matteo Messina Denaro potrebbero chiedere una revoca. Ieri è stata una giornata convulsa in ospedale perché Messina Denaro è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza per un'occlusione intestinale nel reparto di chirurgia del nosocomio, dovrà stato ricoverato con le solite misure di sicurezza per l'aggravamento delle condizioni di salute. Non è in pericolo di vita, ma le condizioni sarebbero comunque delicate. Il boss ha un tumore al colon in stato avanzato ed è seguito all'Aquila dall'equip del professor Motti. Il ricovero del boss è avvenuto dopo che il difensore abruzzese di Messina Denaro, Alessandro Cerella, legale del foro di Vasto, ha denunciato l'aggravamento delle condizioni del suo assistito e l'incompatibilità, quindi con il regime del 41 bis, come si diceva. Poi i medici e i magistrati della procura di Palermo confermando hanno disposto il ricovero, elementi che fanno pensare ad una possibile richiesta di revoca del carcere duro, ma per ora sono supposizioni. Per il boss si tratta del terzo ricovero a San Salvatore. Ad operarlo è stata l'equipe del professor Fabio Vistoli, che è il nuovo primario del reparto di chirurgia universitaria. Messina Denaro, dopo l'arresto a Palermo, è detenuto nel supercarcere di Preturo dal 16 gennaio. È stata proprio la sua malattia farlo scovare dai carabinieri e dai magistrati che lo cercavano da una vita. Il 6 dicembre è fondamentale un pizzino a casa della sorella Rosalia, dove c'erano appuntati elementi sul suo stato di salute. Le cure, Messina Denaro, le ha sempre ricevute, tranne ricoveri, in un ambulatorio medico nel carcere di Preturo, realizzato vicino alla sua cella per effettuare l'echemio. Una situazione è quella del boss, che cade però nel giorno in cui è stato depositato il verbale del primo interrogatorio reso al procuratore di Palermo, verbale di 70 pagine, nelle quali il boss non si pente, nega di aver fatto parte di Cosa Nostra, respinge le accuse di strage e omicidi, specie quelli del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito, rapito, strangolato e sciolto nell'acido, dopo 21 mesi di prigionia. Ha ribadito più volte il boss, che con quell'omicidio lui non c'entra nulla. E poi ha anche detto che la sua cattura è legata alle condizioni di salute, altrimenti non lo avrebbero mai preso.